E c'è il colpo di testa di Mohamed Omos, incredibile, Legit in vantaggio, però Omos era troppo libero, ha colpito bene, ma solissimo, senza che nessuno lo disturbasse, poi ha indirizzato e niente da fare per Buffon, però è una bisapensione. Ancora una volta sulle palle inattive, l'Italia soffre, ricorderete e ricorderai contro la Nuova Zelanda quanto abbiamo sofferto, guarda qui il calcio ad angolo, completamente da solo, nulla da fare per Buffon, l'ha perso forse De Rossi, sembrerebbe di sì, troppo spazio, troppo, poi è stato bravo, però...